allora volevo farvi vedere il nuovo acquisto di casa mia casa nuova allora questa sarebbe una libreria che ha acquistato il mio fidanzato però sapendo che io amo i profumi mi ha fatto questo bellissimo regalo dove metto tutte le mie gioie dove ci sono queste antine tengo quelli senza scatola perché purtroppo io inizialmente buttavo le scatole quindi qui c'è un po di roba bella senza scatola anche qui sotto molto capienti tra l'altro ce ne stanno ci sono stati quasi tutti poi c'è il reparto avon qualcosina di low cost qui abbiamo carlena alien poi c'è qualcosa di nicchia c'è angie de mon c'è qualcosa di ci vinci la dietro c'è a marie i satis abbiamo boucheron qui sempre misti senza scatola qui c'è qualcosa di caccarelle poi abbiamo rochasse quattro di rochasse un clou chopard c'è shalimar ovviamente ecco guardate che meraviglia quant'è capiente sono una chiusa una aperta un'altra aperta un'altra aperta un'altra sotto aperta e un'altra chiusa dove ci stanno infinità di roba ci sono stati quasi tutti perché gli altri sempre qua in bagno sono qua li ho sistemati in questa cassettiera che era sempre sua gliel'ho rubata qui c'è un altro tester di samsara poi c'è qualcosa di vanderbilt lady gaga madonna c'è un altro chopard poi ci sono manila grace cabotin ovviamente grace non può mancare madonna e i miei gioiellini finalmente hanno trovato una casetta bello eh bene volevo condividere con voi questa gioia grazie amiche a presto grazie a tutti